In Casalega sta assumendo contorni sempre più nitidi lo scenario che vedrebbe Mario Conte, attuale sindaco di Treviso, nonché presidente di Anci Veneto, nella suggestiva corsa verso Palazzo Balbi in alternanza all'attuale presidente Luca Zaia, qualora non passasse l'emendamento del terzo mandato, ovvero la possibilità per presidenti di regione e sindaci di potersi candidare per la terza volta in deroga alle attuali limitazioni. Il diretto interessato non smentisce né conferma. Io sono tra coloro che supportano e sostengono l'importanza del terzo mandato e quindi spero che il futuro della regione Veneto sia Luca Zaia, se così non sarà perché la norma non glielo consente potremo sederci a torno a un tavolo per parlarne. Una risposta in pieno stile Zaia potremmo dire nel tentativo di glissare sull'argomento, riuscendoci però soltanto a metà. Io sono sindaco di Treviso e ho un impegno e un legame importante con la mia comunità e quindi il mio impegno quotidiano è rivolto ai trevigiani. Vero è che i leghisti faranno di tutto per non perdere lo scettro del Veneto. A confermarlo lo scorso 14 febbraio alla nostra rete Veneta Focus un altro trevigiano, Alberto Villanova, capogruppo Lega Liga Veneta in consiglio regionale. Il Veneto e mantenere la guida del Veneto sia fondamentale per la Lega. Io credo che se la Lega dovesse perdere la guida alla presidenza del Veneto, penso che resterebbe ben poco. Perché? Perché questa è la culla del nostro partito.